L'introduzione di Campora ha costituito un contesto inerudibile, utilissimo, a cui io mi rifaccio e credo che, proprio tenendo conto delle cose dette da Rosso Campora, senza retorica o punta di qualche municipalismo, si possa dire con tranquillità che il primo congresso dei comitati di liberazione nazionale, che si svolse a Bari il 28-29 gennaio del 44, costitui la prima voce libera che in maniera ufficiale si ne vuole l'Italia occupata e anzi fu la prima manifestazione democratica che aveva luogo in Europa e in un paese fino a poco tempo prima schiacciato dal fascino. In quell'inverno del 43-44 l'Italia come stato nazionale di fatto non c'era più e non solo perché tutto il paese da Roma in su era nelle mani dei tedeschi ancora, ma anche perché la parte liberata, cioè quella meridionale, di fatto non godeva di una sua reale e effettiva indipendenza. a decidere qui nella vita civile e politica erano ancora le gruppe angloamericane che stabilivano autonomamente il percorso che gli italiani avrebbero dovuto seguire per giungere ad un nuovo sistema politico. Se allora il punto di vista americano era più disponibile a soluzioni più avanzate, quello inglese al quale era riconosciuto tra americani e inglesi un diritto incisivo, il controllo diretto nell'area mediterranea, quello inglese era favorevole più nettamente invece di una permanenza dell'anomarchia, era un governo fortemente moderato, affidato a Bologno. Gli storici in quel periodo della nostra vita nazionale sono concordi nel rilevare in questo quadro sia l'isolamento delle nascenti forze politiche nel mezzogiorno, sia la loro difficoltà a contrastare i disegni conservatori di Bologno e di una classe dirigente legata ancora a Vittorio Emanuele III e decisa comunque ad ostacolare uno sviluppo in senso pienamente democratico del sistema politico italiano. Ecco, proprio alla luce di questo contesto si può formulare una prima valutazione del congresso di Bologno, progettato in un primo momento come un primo momento di confronto tra tutti i comitati di liberazione per definire una linea comune in ordine alla questione istituzionale, al ruolo e al destino del re e al ruolo della parte libera dell'Italia, un'Italia ormai riconosciuta come liberante dopo l'8 settembre avrebbe dovuto avere e diciamo svolgere nel posto della guerra, il congresso avrebbe dovuto essere celebrato a Napoli e contro ogni ipotesi di convegno di forze politiche nuove, fortemente critiche dell'operato di Bologno, sia però l'opposizione alleata inglese in particolare e insieme con questa opposizione la forte resistenza del governo bolognano che vedeva nell'iniziativa un pericolo per l'ipotesi di gestione moderata del dopoguerra. L'obiettivo ostacolare di questa iniziativa fu inizialmente raggiunta perché il 5 dicembre del 43, la sera del 5 dicembre del 43, un ufficiale americano bussò la porta di Aranjo Ruiz, il liberale Aranjo Ruiz, presidente del CLN napoletano, per annunciargli che la celebrazione del congresso veniva proibita per ragioni di ordine pubblico, perché Napoli era troppo vicina alle linee del fronte. Al di là quindi di ogni valutazione di merito del congresso, su cui qualche cosa cercherò di dire dopo, è proprio lo stesso svolgimento successivo di quella vicenda, un esempio molto significativo, diciamo generale, non solo italiano, del modo in cui una classe dirigente, sia pure in una fase iniziale di formazione, ricerca e rivendica in una situazione di totale occupazione militare un proprio spazio di autonomia decisionale. E si legittima per questo. Fu Croce stesso, chiamato in urgenza a Napoli, nella sede del CLN, a sollecitare la firma di una strada di protesta, indirizzata al nome di tutti i partiti, ci siamo direttamente a Ciocchio, la Stradin e Roosevelt, per richiamarli ai deliberati della conferenza di Mosca del 43, ottobre del 43, nella quale era stato riconosciuto il diritto di parola e di riunione alle rappresentanze politiche italiane. E' la cosa, no, perché nel successivo incontro con le rappresentanze militari alleate, si ottenne che il congresso si svolgesse, non a Napoli, dove appunto il fronte era vicino, ma a Bari. Già lo svolgimento di questa vicenda sottolinea un primo punto importante, su cui è importante riflettere anche oggi. Le forze politiche che all'indomani della perduta del fascismo operano in un contesto militare internazionale sfavorevole e in un regime di occupazione militare, lo sottolineo, intendono trarre la loro legittimazione non dalla totale consonanza e condiscendenza con il dettato di eserciti occupanti, ancorché liberatori, questo non ci sono dubbi, è che si stessi considerano liberi, ma dalla convinzione di esprimere nella loro unità, in tempi, una ritrovata unità nazionale. Si tratta, e l'ho scritto uno storico delle relazioni internazionali come di Norfo, di un aspetto che non va sottolineato e che caratterizza in modo profondamente diverso l'affacciarsi dei partiti antifascisti alla direzione del sistema politico italiano. Un aspetto che esprimeva una spinta di liberazione dai vincoli di subordinazione al nazismo che Mussolini era da posto in essere, ma conglobava in questo medesimo affeggiamento una sorta di ritrovato spirito di unità nazionale che programmava l'esigenza di auto-identificarsi al di fuori delle posizioni esterne. Così come del resto, la promoglata alleata aveva promesso che gli italiani sarebbero stati in libera. Questa stessa capacità di recuperare spazi di autonomia in un confronto di opinioni, il 28 e il 29 gennaio del 1944 a Bari, si verifica come evento sul quale la disputa storiografica ha ripesato, da questo punto di vista, diciamo, non uniforme. Il congresso, come è noto, fu introdotto da un denso e importante discorso di Benedetto Croce. Però secondo la qualità non era rimasto un grande liberale e un grande moderato e voleva conservare l'omografia e ripristinare quell'Italia liberale e ripristinare che guerra e fascismo avevano dissolto. E magari come permettere fra parentesi più regime ed evitare i cambiamenti radicali, rivendicava dall'attuamento definitivo del re, complice di un soldi in più la politica che l'ha trascinata il paese nella rotina. Croce era anche un grande storico, è un grande politico, nonostante le sue digerazioni di incapacità politica e nel suo discorso la richiesta agli angloamericani di abbandonare la loro politica unilaterale e angusta, la regimila, è legata strettamente alla convinzione che la riportazione di una patria e di una unità nazionale avrebbe dovuto trovare nuove basi. La fedeltà d'Italia è infatti passante, mi dice, attraverso la dolorosa convinzione che del proprio paese dominato dal fascismo era necessario augurarsi la sconfitta. Perché, e sono le sue parole, la presente guerra non era una guerra tra popoli, ma una guerra civile, o che esattamente ancora non era una semplice guerra di interessi politici ed economici, ma una guerra di religione. E per la nostra religione, la religione della libertà, che aveva il diritto di comandarci, ci rassegniamo al penoso distacco dalla brama di una vittoria italiana, di una vittoria che sarebbe stata non solo la rovina del prestante mondo, ma quella che l'Italia resa schiava della Germania. E proprio a ragione di questa posizione, egli si sente legittimato a chiedere agli alleati il riconoscimento del diritto della nuova Italia che stava nascendo, a contribuire con un contingente di militari italiani alla guerra contro l'esercito tedesco. E soprattutto a dar vita ad un governo non corresponsabile della possibilità di azione del Vittorio nazionale, che avrebbe dovuto essere invece rimosso dalla sua funzione di guida del Vittorio. E infatti soprattutto la questione istituzionale, il destino del Vittorio, la responsabilità del Vittorio, fu al centro della discussione tra i partiti. Questa questione era individuata come condizione indispensabile alla successiva partecipazione dei partiti antifascisti al governo nazionale e costituiva la richiesta principale di tutti gli ordini del giorno presentati alla presidenza del congresso. D'accanto loro le sinistre, partito comunista, socialista e partito d'azione, proposero unitariamente l'ordine del giorno che prevedeva l'immediata applicazione del re e la trasformazione del congresso in assemblea rappresentativa dell'Italia liberale, una specie di assemblea costituente alla quale sarebbero spettati i poteri necessari per formare il nuovo governo. È una scelta politica rossa che pur potendo far registrare sempre la maggioranza dei consensi tra quanti partecipavano al congresso, rischiava tuttavia di ridere l'assemblea e soprattutto richiedeva un livello di consenso, di mobilitazione delle masse della popolazione in senso antifascista e rivoluzionario che nel mezzo giorno è natura tutta valedificare. Per giunta tutto questo sarebbe avvenuto in un contesto politico-militare più complicato, diciamo in fondo sarà diventato più ostile al riconoscimento di un ruolo centrale dei partiti politici nella transizione italiana in una fase post-fascista. Infatti nel dicembre 1943, un po' più di un mese prima del congresso d'Italia, a Terran, la decisione presa da Churchill Spahn e Bruce di aprire un secondo fronte finalmente, un secondo fronte di guerra in Europa occidentale dopo la primavera del 1944, rendeva meno importante temporaneamente il fronte su quello mediterraneo e di conseguenza Heisenhower, che era nominato comandante dell'esercito alleato destinato a quello che si è diventato quello del Barco di Normandia, avrebbe dovuto lasciare il comando del Mediterraneo all'inglese Nathan and Wilson e gli inglesi erano meno favorevoli ai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e appoggiare, come ho detto prima, con maggior impegno, valorevole e amorevole. Ora se in prospettiva il disegno di un'egemonia inglese nel Mediterraneo e in Italia avrebbe dovuto fare i conti con l'emergenza di nuova potenza americana, nell'immediato il mutamento della situazione in Italia, costituito un ulteriore pesante impedimento all'effettivo di spiegarsi della proposta dei partitismi tra il malconverso di Bari. E quindi pur collocando, a mio parere, la posizione di Corte in un contesto di moderato liberalismo costituzionale e di persistente fiducia, diciamo, nell'istituto monartico, è tuttavia difficile non riconoscere il fondamento delle sue reazioni giuristime e irritate all'ottimere il giorno presentato dai precattivi, che tra l'altro hanno chiestato la posizione trattolica. La sua posizione molto critica, quella di Corte, non risulta a tutto per un scontato. Il compromesso raggiunge i dati con la mozione finale come è noto denunciato con l'articola del re, responsabile delle sciagure del malese. E' affidata non alla vasta idea conversuale, la giornata quasi in assidura sostituente, ma anzi l'aggiunta esecutiva permanente, il compito di predisposta le condizioni necessarie alla sua posizione di nuovo governo legittimato dalla presenza di tutti i partiti. L'aggiunta come non produsse risultati significativi e la stessa mozione di compromesso, diciamo, non suscitò grandi entusiasmi in croce che nello stesso pomeriggio, diciamo, quando trese i banchi quelli che sarebbero stati i propri tazziti di guerra, scrisse qualcosa che riguardava la sua visita a casa la terza, piuttosto che qualche commento relativo all'esito del congresso. Un'accusa di astrattezza e di estremismo radicale da parte moderata, che sia pure con motivazioni diverse, che è tentativo di tenere in piedi in un'orarchia travollante, tuttavia sembra anticipare il senato di valutazione che emergerà in seguito, soprattutto da parte di ministra, con i ricordi con gli atti e con la cosiddetta svolta di Salerno. L'acqua giudiziale istituzionale che legava l'ingresso nel governo che partì del contatto di interazione nazionale, alle dimissioni di valori e la criticazione, vero bene, faceva rilevare tra la parte, c'era parte di ministra, c'era dopo, non dopo saremmo, rischiava di far passare di secondo piano soprattutto la lotta generale e nazionale contro i tedeschi. E questi avevano già lasciato, diciamo, una scienza in Puglia, ritirandosi, diciamo, da subito verso no, in Puglia, dove l'Averma, insieme all'USS, per settembre e novembre del 43, poco prima, dunque, il congresso di Bari, aveva fatto fuori già, diciamo, c'erciato, oltre 200 abitanti di comunità pulizie ed educali. Un'alcora di più, più consistente, sarà truccidato nelle aree della campagna. E allora, mentre si stava svolgendo il congresso di Bari, i tedeschi, da Roma in su, si stava predisponendo ad un'occupazione feroce del territorio ancora da loro occupati, una strategia di repressione e di caprese anche ancora più radicale. Questa polemica, in mezzo a tutti, polemica storiografica e il giudizio sulla mancata soluzione a Bari per la questione monaritica, si increciò con le perplessità suscitate dalla decisione comunista alle quali le regimiste di entrare nel governo per comportare l'inclusione tedesca più internazionale. Una decisione è quella del PC, sulla quale le scelte diplomatiche dell'Unione Sovietica avrebbero intuito di in maniera molto pesante, non è oggetto di discussioni, di scontri abbastanza strumentali molto spesso in quest'ultimo periodo. Non è questa la sede per riproporre la discussione sui quali nuovi documenti, da quelli sufficienti sull'Italia, conservati negli anni di Mosca e negli anni di micro, hanno oggettato nuova luce sul modo in cui viene elaborata una politica estera dell'URSS tra il 40 e il 44 e sul ruolo non passivo di Togliatti, che da oggi dirigente della Comit, oltre che segretario dei vicini, e quindi come vi è coprotragonistico con le scelte, non passivo alla definizione della politica in una logica che pur dentro l'impoli del sistema staliniano, intrecciava questioni di internazionale e progettità di altri. Da trovare che i limiti, per così dire, illuministi che costituono questi limiti del congresso di Bari, questi limiti purano ben presto consapevoli anche autorevoli protagonisti di quella vicenda. E Tommaso Piore, nel caso di Loppo, Tommaso Piore è uno dei relatori del congresso di Bari, nella prefazione alla distanza degli atti, inizio nel 64, ricordavano che non più di quel che fecero quei partiti avrebbero potuto fare allora a Bari, in quel contesto. I partiti si vedeva appena rinascenti quando la loro forza era bambina. Noi continuavano a fiore e preparavamo il terreno per una società diversa, ma questa sarebbe diventata diversa solo se avessero preso coscienza le forze popolari di sé e del proprio diritto. il congresso era il primo passo di un cammino più lungo e difficile che avrebbe dovuto contenere tutta la guerra patriottica e civile nel resto dell'Italia. E' una guerra dura e vera, quella della Campania d'Italia, conclusa tra la presa di Vecchese, un fronte di guerra probabilmente secondario rispetto a quella terza di Vecchese, ma non per questo meno insanguinato dagli sconfermati, come talvolta sembra fare difendere e Campola lo ha, detto veramente, certa produzione storiografica. Il congresso fu comunque il primo passo, si dice, diciamo. E se svincorriamo quella vicenda da discussioni sostanzialmente superate, da polemiche suscitate spesso anche da forme non del tutto corrette, di quelle che ormai teniamo chiuso pubblico della storia, ne verificiamo invece lei con solo all'interno dell'Italia divisa in due, ma in ambito internazionale, la sua dilemanza, la regalanza di questo evento, risulta cresciuta. Negli Stati Uniti il congresso di Vecchese era considerato da lontano, la prima importante testimonianza di un processo di ricostituzione di un sistema nazionale, e alimentò la spinta all'interno dell'institution russo-vetiano ad allevolare il processo di rinnovamento dell'articità italiana, contestando la piega sostanzialmente reazionaria che l'amministrazione del Vado di Axe stava prendendo l'ultimo giorno. Ecominor, probabilmente lei, vrebbe inghilterra nei giorni immediatamente successivi al congresso, ma anche in questo caso i commenti di Mario Lombra contribuirono ad offrire all'opposizione dell'apulista nuovi motivi di pressione della maggioranza torri più diffidente verso i partiti democratici e certamente, come avrei più favorevole nella soluzione economica. Ultimo punto, io vorrei sottolineare prima di dirlo. Ecco, non si può sottovalutare il fatto che il progresso di Bari costituì la prima manifestazione pubblica dei nuovi partiti politici. L'occasione in cui venne a confronto davanti all'opposizione pubblica, sia pure limitata, le culture politiche che avrebbero poi costruite all'Italia dei nuovi partiti. E' certamente vera la fotografia di una popolazione sconfitta, popolazione regionale, sconfitta, affalante, che circondano, e avranno con la città di armati e le atti che entrano nelle città di scudizi che chiedono sicuramente di cioccolata. Diciamo, allora, Francesco, Marino, che è nata la pubblica dell'Americano. Ma quella fotografia ha affiancato un'altra. Probabilmente ne ho conosciuta in quei primi mesi dopo quel giorno, ma non meno significativa. Ebbene, rimangono i vecchi antifascisti, che ho fatto riferimento tanto, e di nuovi e più giovani dirigenti, che si riuniscono, ma soprattutto testimoniano l'autorazione della consapevolezza di che cosa? Che partecipazione e politica non devono avere più i significati dispregiativi che avevano avuto fino all'ora. Non erano brutte parole. E che il coinvolgimento di altri settori di società civile, ancora disattegrata, era possibile solo attraverso l'azione dei partiti politici, che bisognava mettere o rimettere in piedi e far crescere. E questo è, credo, l'altro dato che mi ha sottolineato. Il congresso di Lai è in fondo il primo momento di confronto pubblico tra le diverse distrutture politiche che stanno in effetti, dopo la capitale della città civile. Molti dei protagonisti di quell'avvenimento, certi negli anni successivi, scompariranno praticamente, o comunque non compariranno più in prima fila, nella lega politica nazionale. La stessa configurazione dei partiti risulterà in semplice che è rilefinita dai nuovi contesti internazionali e dalla necessità di adeguare linee ai programmi e ai risultati di nuovi e approfondire analisi del quadro politico del Paese. Da un lato il vento del nord, il ruolo terminente svolto dalla resistenza armata di l'area di agosto. La più forte ipoteca moderata nella vita politica nazionale con una presenza consistente della destra armatica e filofascista o neofascista che tarderà a tramontare e soprattutto molto contribuirà di demolire la memoria di un antifascismo e di una resistenza anche delle regioni regionali, aiuteranno a lanciare su uno sfondo lontano quel primo avvenimento democratico dell'Italia liberale. E' presto il fatto che il contesto liberale comunque operò di faccio come qualcosa che si avvicinava il genere normale dell'assegliero nella quale erano rappresentati i partiti impossibili da un sistema politico. E per questi l'elemento di identificazione era dato non solo dalla negazione del fascismo c'era una forma di antifascismo che perciò si concluderete con la fine della regione, ma dal raccoglio che essi instauravano anche se l'elemento al campo non è obbligato e in maniera stretta e conseguenziale al di là delle specifiche differenze tra antifascismo e progetto di nuovi e diversi equilibri fra tutte le componenti delle società c'era antifascismo e un percorso politico lungo, duraturo volto alla costruzione e alla progressiva rossa del carenso della democrazia moderna. La storia che abbiamo imparato dai bambini di scuola dell'elementario non si fa con sé, non c'è dubbio, ma certo non possiamo ingressire da riflettere su quanto avrebbe potuto incidere l'assenza di quegli avvenimenti con l'elemento che si citavano sull'eventuale crescita di consenso al blocco monarchico conservatore nelle successive competizioni elettorali a partire da quella del 2 giugno del 46, dopo si decise tra monografia e repubblica. E anche grazie a questi avvenimenti c'è fortuna l'inizio della Repubblica. Grazie. 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 Grazie.